I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, dopo una preliminare attività info-investigativa effettuata anche attraverso il monitoraggio del web, hanno individuato una rivendita di bombole di GPL che, pur investendo molte risorse in pubblicità, aveva omesso di assolvere gli adempimenti più rilevanti. L'attività commerciale, infatti, risultata essere completamente priva di ogni autorizzazione amministrativa, compresa quella per la prevenzione incendi, che avrebbe dovuto attestare la sussistenza dei requisiti di sicurezza necessari per detenere e maneggiare prodotti pericolosi ed infiammabili. La maggior parte delle bombole trovate nel deposito, di provenienza sconosciuta, erano prive dei sigili di garanzia normalmente apposti dagli impianti di imbottigliamento autorizzati. Nel corso degli accertamenti sono stati scoperti strumenti utili per effettuare operazioni di travasso di gas da una bombola all'altra e la loro successiva sigillatura, quali tubature di raccordo, bilance, manometri, martelli in gomma, chiave inglese di tipo speciale, tappi, il tutto in condizioni di grave violazione delle più elementari norme di sicurezza a tutela dei consumatori. Da qui l'esigenza di procedere con la pesatura dei singoli recipienti pieni, che ha poi confermato l'alleggerimento di buona parte delle bombole che sarebbero poi state poste in vendita in evidente frode del consumatore inconsapevole. I finanzieri hanno sottoposto a sequestro circa 300 bombole tra semi piene, pronte per la vendita e vuote, pronte per essere riempite, contenenti combustibile tipo GPL per circa 480 chili e il capannone al cui interno avvenivano le operazioni di travasso, come detto, con rischi enormi in ordine ad eventuali esplosioni accidentali. Inoltre è stato scoperto un sofisticato meccanismo utilizzato per sottrarre fraudolentemente all'energia elettrica mediante un allaccio diretto abusivo alla rete di distribuzione.